Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato martedì un filmato che mostra all'esercito di Mosca di prendere il controllo di Snagos, un villaggio nella regione occidentale di Kursk. Le forze russe combattono contro le truppe ucraine nella regione dal 6 agosto, quando l'Ucraina vi ha lanciato un'incursione a sorpresa. Nel suo discorso notturno di lunedì, il presidente Zelensky ha dichiarato che l'operazione ucraina a Kursk sta andando esattamente come previsto. «Бuva також змістовна доповідь розвідки щодо ситуaції в арmії окупанта та на його території, в його народі. Для нас важливо, щоб в Росії погіржуться з прийняття війни, з прийняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність все ж таки подолала російську державну пропаганду». «Лунedì il presidente russo Владимир Путин ha ordinato alle forze armate di aumentare le proprie truppe di 180.000 unità, per un totale di 1,5 milioni di soldati a partire da dicembre». «La carenza di personale militare è stata ampiamente citata come una delle ragioni principali del successo dell'incursione ucraina a Kursk.